S.D.M. News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con S.D.M. News, il primo TG dedicato agli sport outdoor di montagna. Quest'oggi una puntata interamente dedicata alle corse in montagna, corse in montagna di alto, altissimo livello. Spettacolo doveva essere, spettacolo è stato, alla International Rosetta Sky Race 2014. Doppiatta valetudo alla gara della Vargerola. Se il primato di presenza è stato battuto alla vigilia con 268 atleti iscritti, quelli gara di Nicola Golinelli 1 ora 59 e 34 e di Manuela Brizio 2 ore 30 e 44 sono invece stati letteralmente polverizzati dai due atleti di Giorgio Pesenti, ovvero Yonu Zincha che ha chiuso in 1 ora 58 e 38 e Denisa Dragomir 2 ore 22 e 49. Questa volta lo possiamo proprio dire, Massimo Zugnoni e il suo staff hanno davvero alzato l'asticella per questa ottava edizione che vedeva la Kermesse Ondriese inserita come seconda prova del circuito Lombardia Skyrunning 2014 e penultima tappa del progetto 3S e Bassa Valtellina, il circuit che ha come mission raccogliere fondi a sostegno di Cancro Primo Aiuto Onlus. A darsi battaglia sui 21 chilometri a fil di cielo disegnati tra gli alpeggi dove si produce il famoso formaggio Bitto, vi erano anche diversi atleti provenienti da Polonia, Romania, Albania, Spagna e Svizzera. Sul classico tracciato disegnato all'interno del Parco dell'Eurobio valtellinesi, i portacolori della Valetudo Skyrunning hanno subito innestato il turbo, impresso un ritmo insostenibile ai diretti avversari. Solo Daniel Antonioli, al maschile, ha saputo tenere testa almeno per tre quarti di gara a un irresistibile Yonu Zincha. In discesa però il campione rumeno ha preso il largo giungendo in solitaria nella torcida di zona arrivo. Qui è stato accolto con i fasti che si riservano a un big del suo calibro, secondo posto per Daniel Antonioli, 2 ore 0,2 e 13 e terzo gradino del podio per il giovane Giorgi Slabotz, 2 ore 0,3 e 19. Tutto valetudo il podio femminile con il successo da record di Denisa Dragomir, seguita dall'esperta Michela Benzoni, 2 ore 36 e 19 e dalla talentuosa Giulia Gainario, 2 ore 39 e 35. A fine gara abbiamo intervistato per voi Yonu Zincha e Michela Benzoni. E' stato contento, ho fatto la salita, è stato un po' difficile per me, non mi trovavo al 100% ma tutto il tempo è andato con Sobi e anche con il che ha fatto secondo e sempre è andato in cima di me e doveva spingere tutto il tempo. Dopo la discesa è lo mio e lo che mi piace tanto e ho disfrutato, la discesa tiene due o tre pezzi tecniche, anche discesa ripida e quello è molto bello. Dopo la gara è interessante perché non è solo sempre andare lassù e dopo giù, è un po' di piano, dopo un po' di discesa al mezzo della salita e quello è divertito e anche un po' di pietra e il bosco, quello fa bene per una gara bella e mi è piaciuto tanto e grazie agli organizzatori per darmi l'opportunità di stare qui. Oggi ho fatto tanta fatica in discesa, anche in salita ma di più in discesa, comunque è una bellissima gara, ho fatto bene a venire. Cambiamo location ma restiamo in quota con un'altra gara da grandi numeri. Le condizioni meteo quasi estive lo scorso fine settimana hanno aggraziato i 600 atleti che si sono dati appuntamento ai piedi del Monte Pelmo per correre intorno al Carregorn del Padre Eterno. La settima edizione di questa suggestiva manifestazione è stata vinta in campo maschile da premier otto Michele Magia Tavernaro con il tempo di un'ora 43-46, mentre tra le ragazze è salita sul gradino più alto del podio Cecilia De Filippo. Quest'ultima dopo un'incredibile rimonta in discesa ha fermato il cronometro sul tempo di 2 ore 20 e 13. Il programma della giornata prevedeva 17 chilometri e 1296 metri di dislivello positivo. Le piogge dei giorni precedenti alla partenza avevano reso il tracciato molto insidioso e difficile a causa del fango presente lungo i sentieri della parte bassa. È grazie a queste condizioni estreme che il capitano del team LASPO, orientista DOC, ha iscritto il proprio nome nell'albo d'oro di questa gara. Alle sue spalle Alessandro Follador ha tagliato il traguardo con il tempo di un'ora 44-37. Si è piazzato secondo davanti a Davide Pierantoni, terzo assoluto, con il tempo di un'ora 45-12. Sul podio femminile, con la De Filippo, sono invece salite Patrizia Zanette, seconda con un gap di poco meno di due minuti, e Tina Sbrissa con il tempo di due ore 24-56. A fine gara, anche in questo caso, abbiamo intervistato i due vincitori. Sono partito un po' tranquillo all'inizio, c'erano davanti i Pierantoni, i Follador, lo sloveno, e ho visto subito che il terreno era molto scivoloso e fangoso, e questo è un tipo di terreno che si addice alle mie caratteristiche. Non facevo moltissima fatica a tenere il loro ritmo, e ho preferito restare dietro a loro fino in cima alla forcella, e poi in discesa ho controllato un po' senza rischiare di farmi male, e poi nel finale, qui quando c'era il tratto diciamo più scivoloso e fangoso, ho provato ad allungare, mi è andata bene e sono arrivato qui con un po' di vantaggio. La mia gara è andata bene, non me l'aspettavo perché sono stata ferma due mesi per problemi di salute, e sono venuta qua un po' per fare un giro diciamo, e invece poi mi sentivo bene. Sono sempre stata seconda fino alla forcella, a parte qualche metro in partenza, e dopo in discesa ho recuperato e sono riuscita a vincere. Entra nel vivo la stagione delle Sky, entra nel vivo con una finalissima, quella del circuito, la sportiva Gore-Tex Mountain Running Cup. La Sky Race Montecavallo, ormai considerata tra le più interessanti del panorama nazionale, rappresenta una delle maggiori espressioni di eccellenze prodotte dal territorio raccuse tra Consiglio, Alpago e Piancavallo. Balcone privilegiato sulla pianura veneto-friulana, queste montagne sono inserite in un patrimonio naturalistico d'eccezione di rara bellezza, che permette a chi le frequenta di godere panorami mozzafiato. Come anticipato, domenica, questa gara griffata a Montanaia Racing, sarà anche finalissima nella terza edizione del circuito, la sportiva Gore-Tex Mountain Running Cup, un trofeo che dopo la 30 passi di Marone, la gara bresciana di inizio stagione, la race gap di Lecco, la stava di Tesero e il giro di Mont di Premana, vedrà in astri di partenza atleti di altissimo livello. In vista di questa finale abbiamo scambiato due battute con Ionu Zinca. Dopo un anno con tante gare siamo arrivati al finale per vedere chi è il più forte in questo circuito. Questo anno è più interessante che tutti gli anni, perché nella finale vediamo sono due o tre che vincere il circuito e questo è bello, è bello per tutti, per le tifo e anche per il circuito è un gran salto come qualità e anche le gare sono belle, sono grandi gare e la gente è incredibile. Una nuova finale a Piancavallo e un avversario che sta davvero bene, Fabio Bazzana. Sì, è la prima volta che va a fare questa gara, vediamo come c'è. Questo anno è solo il Giro di Monte, fatto l'anno scorso e due anni fa e dopo tutte le gare per me è stata la prima volta. Aspetto a fare una bella gara ma Fabio è un gran corredore e anche sta in un bel stato di forma e sicuro che va andare forte, lui è forte sempre e compite al cento per cento. Dalle Sky al Trail mantenendo sempre alto il livello, vi parliamo del Sella Ronda. Superata quota 200 iscritti per la quarta edizione del Sella Ronda Trail Running, la suggestiva competizione di corse in quota attorno al gruppo del Sella attraverso i passi di Campolongo, Pordoi, Sella e Gardena. Gara in programma questo fine settimana per l'esattezza sabato 13 settembre. Questa competizione fra l'altro acquisisce ulteriore prestigio visto che sarà valida come prova unica di campionato italiano Trail nonché inserita nel circuito Salomon Trail Italia come ultima delle otto prove in programma con relativa premiazione finale. Tra gli aspetti significativi dell'edizione 2014 anche la certificazione dell'evento come competizione valida per l'assegnazione di due punti nella graduatoria di iscrizione al prestigioso Ultra Trail du Mont Blanc. Tanta carne al fuoco dunque, in totale i chilometri che gli atleti dovranno percorrere saranno 56,9 con un dislivello positivo di 3.700 metri e altrettanto di discesa. Per quanto riguarda i partecipanti saranno regolarmente al via i leader del circuito Salomon Trail Tour Italia ovvero la genovese Giulia Madori e il valdaustano d'adozione Giulio Ornati, quindi la vincitrice dell'edizione 2013 Silvia Serafini che dovrà guardarsi anche dalla veneziana Silvia Rampazzo. Al maschile attenzione a Claudio Guarnier e George Piazza. Anche per questa settimana abbiamo concluso, il nostro consiglio in gara è sempre lo stesso, sognate, osate e non mollate mai!